Noi abbiamo preso come riferimento le prime 90 posizioni e su 90 posizioni una settantina sono di famiglie aretine. Sono 7 su 10 gli assegnatari provvisori italiani delle case popolari nel comune di Arezzo. La revisione dei criteri di accesso all'edilizia popolare era uno dei punti del programma di legislatura della giunta Ghinelli che puntava a premiare l'anzianità di residenza ed adesso Neruso Bianco seppur provvisoriamente vede la sua concretizzazione. Il comune si è mosso applicando poi di fatto la legge regionale la 41-2015 mettendo dei punteggi aggiuntivi alle famiglie residenti da più anni nel comune di Arezzo e tutta una serie di punteggi aggiuntivi che andavano a premiare di fatto gli aretini come mezzo punto per ogni anno di presenza nelle vecchie graduatorie fino a un massimo di 5 punti. La novità di questa legge è che è stato introdotto lo Stato immobiliare sia in Italia che all'estero per cui di fatto questo ha portato a una scrematura. Nel senso che chi ha una proprietà immobiliare sia in Italia che all'estero ha comunque una fonte di reddito. Fuori furbetti questa è l'altra scelta strategica portata avanti dall'amministrazione comunale attraverso controlli a tappeto e non più a campione. Ci sono tanti furbi, tanti furbi che hanno le case di proprietà e comunque stanno in un alloggio popolare, persone che non stanno nell'alloggio per cui gli alloggi vuoti non ci devono stare perché ci sono tante persone che aspettano di avere un tetto sopra la testa e chi ha delle case private ci vada ad abitare per cui sono importanti anche le segnalazioni dei cittadini per eventuali alloggi che non vengano utilizzati a dovere. In 20 giorni di lavoro dell'ufficio sono partite 7 decadenze. Intanto l'amministrazione comunale presenta anche le recenti assegnazioni di 19 nuovi alloggi di proprietà del comune in piazza San Gemignano. Tra gli assegnatari 12 nuclei familiari sono composti da oltre 65 anni e in 4 ci sono invalidi.